Gli effetti del cambiamento climatico, che modifica l'equilibrio della temperatura terrestre e ha forti ripercussioni sull'uomo e sull'ambiente, sono drasticamente presenti in ogni angolo del pianeta. Ogni territorio soffre, probabilmente vittima di scelte rivelate e si sbagliate nel tempo. Non fa eccezione Cremona, seconda in Europa per polveri sottili e ai vertici anche in Italia per inquinamento e al centro dell'attenzione per nuove infrastrutture come l'autostrada Cremona-Mantova e il Terzo Ponte, che con lettere di esproprio arrivati ai diversi abitanti di Castelvetro-Piacentino, sembra riprendere forza, anche se sempre più cittadini e associazioni si interrogano sulla reale utilità di queste nuove impattanti costruzioni. Siamo schiavi di una visione assolutamente errata da un punto di vista proprio del sistema economico, il volere sempre di più. Ecco, non ci vogliamo rendere conto che viviamo su un pianeta dalle dimensioni limitate e quindi il modello della crescita infinita dei trasporti, dei commerci, delle merci, delle persone, non può funzionare. In un pianeta dalle dimensioni finite non può esistere una crescita infinita. Se guardiamo anche le innovazioni di cui disponiamo, a mio parere oggi potremo anche evitare di costruire nuove autostrade, nuove infrastrutture. Semmai l'imperativo è fermare il consumo di suolo, perché quello sarà il vero problema di domani. Quando avremo cementificato tutta la pianura padana non mangeremo più. Il territorio cremonese, dunque fortemente compromesso dal punto di vista ambientale, da anni fa i conti compromesse mai mantenute, come quella dello spegnimento dell'inceneritore, una delle fonti di emissioni maggiori come l'autostrada e il polo industriale, dati evidenziati anche dallo studio epidemiologico, anche questo non ancora terminato. Bisognerebbe cominciare a spegnerne qualcuno e tenere alcuni inceneritori solo per quella parte che dovrebbe andare a ridursi dei rifiuti non riciclabili. Al contrario dovremmo investire sempre di più su una differenziazione spinta di tutti gli altri rifiuti recuperabili, ma dovremmo anche fare un lavoro importante dal punto di vista culturale, cioè non è possibile che i rifiuti oggi continuino a crescere in termini di quantità globale. Siamo attorno ai 500 kg di rifiuti per persona all'anno, è veramente troppo. Un quadro dunque quello del territorio cremonese che necessita di scelte mirate e di interventi urgenti in tema di ambiente e di salute.